Matteo, come va? Bene. Io ho saputo un grande successo tuo, di un grande successo ho saputo. Vuoi dirci? Ho risolto il modulo junior in otto minuti. In otto minuti? E cosa ti sembra di questa prestazione? Interessante, eh? Sì. Sei soddisfatto? Benissimo. Beh, ricordiamo in che classe vai? In quarta. In quarta, benissimo. Quarta A, quarta B? Quarta C. Quarta C addirittura, complimenti vivissimi. Allora guarda, c'è la settimana enigmistica, se sei così bravo, io voglio metterti alla prova, apri a pagina 3, pagina 3, è qui la prossima. Ecco, cosa ti sembra? Possiamo risolvere questi giochi? Va bene. Va bene, ti piacciono? Cioè, non molto. Come non molto? Perché la spinge proprio la odio, non so risolvere i ragazzi. La odio addirittura. Che figura mi fai fare? Io speravo che tu dicessi che ti piacciono questi giochi. Va bene, quasi o mai la tagliamo questa qui. Allora aspetta un attimo, io ti trovo. Ecco, allora aspetta, facciamo questo bisenso, così anche qui si ottieni in guarda il giornale. L'hai visto il bisenso? Sì, l'ho visto. Pentimento artistico. Vuoi dirmi due parole su come si svolge un bisenso? Se sai, se no ti aiuto io, sono qui. Vuol dire con due sensi. Oh, è la miseria, con due sensi, giusto, giusto, non ci avevo pensato. Ma guarda che bella presentazione. C'è una parola che ha due significati. Ah, è la miseria. Benissimo, benissimo. Allora vediamo, leggi il testo. Disegni un bel giardino col... Un attimo, silenzio, silenzio ragazzi. Ma il giorno dopo, quando lo riguardo, non mi piace più tanto e lo... Ecco, allora devi trovare una parola, come hai detto prima, ripeti, ripeti, una parola che abbia... Che abbia due sensi. Due sensi, sì. Ecco, proviamo a trovare. Più tanto e lo scarto... Ecco, lo scarto, qualcosa del genere, sì. Se non ti piace, cosa fai dopo aver disegnato? Lo cancello. Lo cancello. Prova a contare quante lettere ha quella parola. Ci sono delle X là? Sì. Sì? Ripetimi quel sì che mi è piaciuto, come mi hai detto. Sì. Sì? Allora prova a metterla anche nell'altra parte della frase. Disegni un bel giardino col cancello, ma il giorno dopo, quando lo riguardo, non mi piace più tanto e lo cancello. Cosa ti è sembrato? Facile. Facile. Buon, benissimo, benissimo. Allora ti ringrazio. Posso pubblicare questo? Sì. Sì, benissimo. Allora questo era un bisenso che abbiamo risolto in quanti secondi? Dieci secondi al massimo. Ciao, ciao. Ciao Matteo. Ciao.